Avanti con il 4, 3, 1, 2 anche a Parma, oppure al Tardini si vedrà un Bologna schierato diversamente, magari con la difesa a 5. L'interrogativo par non sia ancora sciolto in vista di quello che, per il rosso-blu, si preannuncia come un vero e proprio esame, e un derby particolarmente sentito anche in città. Corriere dello Sport Stadio Bologna, esame vero Un esame di maturità, ha ragione Marco Divaio, ecco cos'è per il Bologna la trasferta di Parma. Ci giochiamo tanto in questo senso, è vero, è una tappa fondamentale del nostro cammino, la sottolineatura del capitano rosso-blu. Ora come ora è dura trarre le conclusioni su come giocherà domani il Bologna. Colomba potrebbe anche pensare di utilizzare tra le linee un giocatore di gamba accanto ad Adahilton alle spalle di Divaio, Valiani o Vigiani tanto per intenderci, ma oggi continua a ritenere anche Zelaieta un punto fermo dell'attacco, sapendo che il Bologna vivrà inevitabilmente qualche difficoltà in più nella fase di non possesso palla, ma al tempo stesso confidando nella sua qualità e nelle sue spizzate in quella di possesso. La chiave tattica. Il Bologna dovrà rubare l'idea a Guidolin, non condurre il gioco. Le sue squadre sono brave nella conquista della palla e poi a ripartire una volta conquistata? Bene, la palla gliela lasci e che ci pensino loro a giocarla e a fare la partita. All'atto pratico non devi concedere al parma quello che sai far meglio. E ancora. Devi verticalizzare il gioco al massimo, cercando di saltare il centrocampo e di raggiungere prima possibile i tuoi attaccanti percorrendo tutte le vie, magari anche quella della giocata alta per andare al successivo rimbalzo. Sì, in questo senso potrebbe tornare utile la presenza in campo di Zelaieta, con le sue spizzate di testa, come a suo tempo faceva Kenneth Anderson quando si trovava di fronte proprio il Vicenza di Guidolin. Guidolin è stato a Bologna quattro anni e se fosse dipeso da lui ci sarebbe rimasto per tutta la vita. Poi è successo quello che è successo nella notte di Bologna a Juventus, ricordate quella sua frase, rubata dalle telecamere e della quale si è scusato, tremendamente sbagliata nei confronti di Bologna, e le due strade si sono divise. Ci ha rimesso di più il Bologna, visti i due cammini da allora, anche se l'addio di spiacque più a Guidolinca e la gente. Che lo ha sempre considerato serio, introverso e pieno di ombre, dimenticando che era un allenatore vero e anche l'allenatore giusto per il Bologna, quello che gli avrebbe permesso di mantenere sempre la Serie A, anche con pochi soldi. Il resto del Carlino. Voglia di derby, Colomba sfida Guidolin per riscrivere la storia. E Menarini ricapitalizza. Voglia di derby. Ma soprattutto, voglia di riscrivere la storia. Ne sa qualcosa anche Renzo Menarini, che ieri nell'assemblea convocata nel primo pomeriggio a Casteldebole e che ha formalizzato l'ingresso di Pier Giovanni Ricci nel CDA, ha messo mano al portafoglio per ricapitalizzare parte delle gravi perdite dell'ultimo bilancio. Il patron ha staccato un assegno da 5 milioni, sperando che bastino a tappare tutte le falle. In fondo tutti i guai sono cominciati da quel doppio Bologna-Parma. 1-0 per i rosso-blu con gol di Tare, il 14 giugno 2005. 2-0 per i giallo-blu al Dallara, quattro giorni dopo, grazie alle reti di Cardone e Gilardino. Vincere a Parma per noi sarebbe una bella botta di vita, ha azzardato ieri Roberto Guana. Il quarto posto del Parma merita tutto il nostro rispetto, frena invece Colomba. Rispetto significa anche cambiare i connotati tattici della squadra, se necessario. Anche ieri in allenamento ha provato il 3-5-1-1, salvo poi virare sulla tradizionale difesa a quattro. Il dubbio resta. Intanto da Londra rimbalza un'indiscrezione. Alessandro Diamanti, 26enne trequartista che a fine agosto il Livorno ha ceduto al West Ham di Zola per 6 milioni, sarebbe tornato nel mirino del Bologna. L'unico modo per arrivare al giocatore è scambiarlo con Osvaldo, che tuttavia tre giorni fa è stato tolto dal mercato. Se ne riparlerà, semmai, a gennaio. Zaccardo. Se segno, esulto. Cristian Zaccardo, beato lei che a Parma corre per la Champions. Sarà bene aspettare un po' prima di parlare d'Europa. Nell'anno in cui è andato in via anche il Bologna era partito fortissimo, poi è finita come tutti sanno. Guidoliniano anche nella prudenza. Sì, in questo gli assomiglio. Alle chiacchiere preferisco i fatti. Zaccardo e il Bologna. Sono arrivato a Casteldebole, che avevo 11 anni e quando sono andato via ne avevo 23. Metà della mia vita calcistica l'ho fatta lì. Poi, nell'estate del 2004, il passaggio al Palermo per 2,5 milioni. Il Palermo aveva un progetto ambizioso, ma soprattutto aveva Guidolin, che al Bologna mi aveva fatto esordire. Dal punto di vista professionale, sceglieva una situazione migliore. Anche perché quel Bologna a livello societario cominciava a evidenziare delle difficoltà e non aveva molte prospettive. Col Palermo per lei è arrivata la nazionale e il titolo di campione del mondo. Egoisticamente, posso dire di aver fatto la scelta giusta. Bologna però è strana. Cresce un gamberini uno zaccardo, storce il naso quando li vede giocare con la propria maglia e puntualmente li rimpiange quando sfondano lontano da Bologna. Per me non è stato facile impormi in una squadra che allora aveva campioni come Signori e Cruz. A Bologna il pubblico è esigente e quando le cose non vanno bene a volte i giovani finiscono nel mirino. Ma io al Bologna posso solo dire grazie. È stato un passaggio fondamentale della mia carriera e domenica lo ritrovo con piacere. Zaccardo, come finisce il derby? Noi stiamo bene, ma anche il Bologna è in ripresa. E con Divaio e Zalaieta per noi difensori ci sarà da faticare. Non ha risposto alla domanda. È l'ultima partita al Tardini prima di Natale e vorremmo regalare i tre punti ai nostri tifosi. Se lei segna, che fa? Se giocassi al Dallara o al Barbera, da ex festeggerei in modo contenuto. Ma davanti al mio pubblico credo di poter esultare tranquillamente. La Repubblica. Colomba, dubbi sulla rivoluzione. E ieri il CDA di Minarini ha deciso l'aumento di capitale. Il caso. Europei 2016, Bologna esclusa, Cesene in corsa. Guidolino è la colpa di illuderci finché con la Juve crollò tutto. Corriere della sera di Bologna. Bologna freme. In 2000 domani a Parma per il mini-derby. Molte auto e il treno delle 12.05 sarà rosso blu. La città sogna il colpaccio contro l'ex Guidolin. Le prove di difesa a tre. Guana. Nuovo modulo. Non credo che lo useremo. L'informazione è il domani. E Colomba se la gioca in difesa. Il tecnico ha provato sia il modulo A4 che quello A3 rafforzato. Guana. Dura cambiare in corsa. Bombardini. Pronto comunque, cambia poco contro quell'attacco. Il numero 10. È un derby, impossibile fare previsioni in questi casi. Parla Carmignani, in panchina nella partita del 18 giugno 2005. Per me fu una gioia grande. Ma il Bologna di oggi è un pericolo. Caso Mutarelli. Tutto rimandato al 21 dicembre. Grazie. 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 Grazie.